Amici di Trebimetro, un saluto e ben ritrovati a questo aggiornamento con la TG di Trebi. Partiamo da una notizia di cronaca dall'estero. Queste immagini ci arrivano dalla Grecia, in particolare vicino a Corinto, a 100 km da Atene, dove diversi incendi stanno devastando le campagne a causa della siccità che infligge questa zona, unita alle temperature ancora piuttosto elevate e a venti intensi fino a 100 km orari. Per quanto riguarda l'Italia, invece, sta per arrivare una prima perturbazione atlantica, la vediamo da satellite, la parte avanzata ha già raggiunto il nord Italia, portando delle nubi e le prime deboli piogge, in particolare sulle zone alpine. Sarà soprattutto mercoledì che questa perturbazione sarà in azione sul nord Italia, portando rovesci, piogge e anche dei temporali, soprattutto tra Levante, Ligure Toscana e poi sulla Triveneto, con fenomeni anche localmente abbondanti sulla Friuli Venezia Giulia. In questa prima fase il sud resterà più a immagini, con tempo ancora in prevalenza asciutto, ma poi tra giovedì e venerdì si approfondisce un vortice di bassa pressione sulla terreno, che impegnerà praticamente tutte le nostre regioni, portando un maltempo diffuso autunnale con fenomeni anche temporaleschi, soprattutto sui versanti tirrenici. Il tutto sarà accompagnato da una ventilazione piuttosto sostenuta, venti intensi da sud, generalmente raffica anche oltre gli 80-90 km orari, che porteranno dunque anche amareggiate, mari molto agitati, localmente anche in burrasca. Dal punto di vista delle temperature il clima sarà pienamente autunnale, ma lo è già in questi giorni, ma ancora di più poi giovedì al nord, dove non si supereranno i 13-15 gradi. Ultimi scampoli estivi invece al sud vedete con un notevole differenza, soprattutto in Sicilia, che ancora sarà caratterizzata da temperature vicine ai 30 gradi. Per tutti i dettagli, come di consueto, vi rimando al nostro sito o all'app di Trebi Meteo.